Carissimi, quello che dovrebbe, secondo me, da ignorante, farvi veramente pensare è questa crescente richiesta di denaro, sempre più crescente. Nella mia congregazione in Svizzera, dice un commento in un blog, è stata fatta ieri una risoluzione riguardante i soldi sul conto. La risoluzione riguardava l'abbassamento della soglia del saldo di emergenza, fino ad ora fissato a circa tre volte i costi mensili di gestione e di proprietà. Il presidente della Dunanza ha iniziato dicendo che, vista la situazione attuale, le spese di gestione della congregazione sono ridotte notevolmente. Siamo in centro sale con cinque sale del regno per circa dieci congregazioni. Poi ha però detto che le contribuzioni sono scarse. Quindi ha proposto l'abbassamento della soglia, il versamento dell'eccedenza della società, che potranno venire usati per la costruzione di sale del regno e per l'opera. Ora, io, come penso molti altri, abbiamo capito veramente poco. A parte che non sono simpatizzante di queste decisioni per votazione, dove il tempo deve pensare, capire, fare eventuali domande, è nullo. Ma, infatti, tu non devi domandare, devi obbedire. Non ho capito perché bisogna abbassare proprio ora questa soglia quando le cose stanno migliorando e si potrebbe riaprire il centro in tempi non sospetti e viste le scasse contribuzioni. Non ho capito quale bisogno ci sia di costruire sale del regno in questo periodo, viste le disposizioni vigenti a livello globale. Non ho capito su che base è stabilita la nuova soglia. La precedente era stata consigliata dalla Betel, credo. Il nostro conto era di poco sopra la soglia di emergenza. Inoltre, non so se avete notato, ma negli ultimi mesi è stato pubblicato un solo articolo di Svegliatevi, tra l'altro evidentemente dedicato al territorio indiano. Per l'Assemblea abbiamo dovuto stamparci per conto nostro gli inviti, i cartellini e i programmi, perché nella nostra comunicazione ci sono diverse persone di età avanzata che non hanno dimestichezza sufficiente con la tecnologia. Se tutti faranno così, ci sarà uno spreco di risorse enorme. Per stampare 50 inviti per volta, il costo unitario e il rapporto a stamparne 50.000 è altissimo. Morale della favola? Mi sono astenuto. Non avendo ben chiara la situazione, sono stato l'unico. Tutti gli altri favorevoli servono soldi. Va bene, ditelo e parliamone chiaramente. Per cominciare. Non hai capito perché non c'è esattamente nulla da capire. Occorre cacciare denaro e basta. Da diversi anni sostengo che queste lettere farlocche e con prefazioni funamboliche appositamente incomprensibili da provare seduta stante potrebbero benissimo evitarle per rispetto dei fratelli, che si sono testimoni di Geva, come capite, dottora interni dentro alla congregazione. Sarebbe molto più... Chiaramente possono commentare, grazie a un nick fasullo. Sarebbe molto più serio scrivere tirate fuori euro tot e basta. Il resto della lettera, con tutto il contorno di inutile aria fritta, lo considero solo un insulto all'intelligenza di chi ascolta. Non sentirti solo. Non c'è mai capito nulla, nessuno. Così, propongo. Queste riflessioni, se qualcuno probabilmente potrebbe farle proprie e ritrovarcisi. Buona continuazione di ricerca.